Una parvenza di anormalità, diciamo, perché ancora non siamo nella normalità, però vogliamo dare un segno di speranza, di ripartenza, di tante cose che col perdono difficile da organizzare, difficile sarà da poterlo fare in sicurezza, però ci proveremo e sarà fatto al meglio. Il programma è un programma ampio e pieno di iniziative, iniziamo stasera con il concerto della banda, Umberto Giordano, poi ci sono cene, c'è la cena nel Viale, c'è tantissime modalità di poter stare a cena a Cabriglia, c'è varie locali che ospitano altre iniziative, insomma è una cosa da vedere, da venire a visitare Cabriglia.